amici ma buonasera ma buonasera a tutti ragazzi auguri per quelli che non sono riusciti a cui non sono riusciti a fare gli auguri prima live serena tranquilla su gta stasera poiché è il gioco più natalizio che ho si veste di natalizio quando siamo sotto le peste che posso fare in solitaria sto cazzo di erduennone vediamo un attimo no 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 bene non è così in ritardo allora ragazzi sono proprio vicino al pericolo personale veicoli riporta veicolo personale al deposito allora facciamo una bella cosa meccanico invece chiamiamo l'altra come safari quella invece che io credo aver acquistato allora taccitua chi è stato erduennone ce ne possiamo andare via 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 che bei momenti amici questi momenti conviviali della stanza non rubare un scorpione e buon natale a tutti amici non guardate non guardate non è successo niente tutti a tutto a posto salve ma l'hai fatto davvero non ci credo ma grazie grazie mille l'hai fatto davvero ti sono debbiturissimo grazie mille lo prenderò come un regalo di natale cappellacci ciambellu cappellacci ciambellu cao ciao cappellacci ciambellu oddio buoni propositi beh 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 buoni propositi e fare diverse puntate su youtube però su montaggi lego questi sono i buoni propositi dopo di che i buoni propositi saranno anche in un punto indeterminato di questa dell'anno corrente l'anno che arriva in un punto indeterminato sarà cambiare location cambiare location di stream esatto e se è stato il video più visto quello della delorean che comunque è un grandissimo set lego ancor di più lo sarà il set che sto per montare amici perché veramente non vi spoilerò niente ma veramente veramente i set poi perché uno in particolare però i set cambierò comunque luogo da dove streamerò quindi non è detto che ci siano dei momenti di stop delle live perché dovrò praticamente impostare le nuove stanze dove farò stream quindi tutto molto bello allora continuiamo a contaminare una riserva molto bene molto bene talve ecco a voi divertitevi eh a parte che ho dato fuoco a tutto attiva il sistema di irrigazione così almeno il fuoco se ne va no 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 amici e te pare amici gente che s droghe no amici amici ecco fatto ci risiamo ecco fatto ci risiamo allora innanzitutto flippa ahahah ma perché mi hanno messo a visuale ma che cazzo succede gli schivolanti oh vabbè un po' me lo merito c'è da dire eh c'è una sepo 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 ma ma scusate eh ma ma scusate ma ma c'è qualcosa che posso effettivamente fare eh ma 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 allora ucchie devo seccare soltanto i vagliacci Bellissimo Bellissimo Mi è piaciuto la morire Cioè non sono solo Vissuto per carità Alle all'elucinazione Ma questa è fatta Insomma Ma dove cazzo sarò L'amirò su Eh pure Allora andiamo via da sto luoco di merda Buon Natale amici Ciao Tommy Ciao Massone Ciao Gabone Ciao Massone Ciao Uca Uca e Cortex volere chettini recuperare pietra.